Presidente, allora diceva questa cosa dell'Imo, insomma lei la vede fattibile questa lettera inviata ai cittadini che ci sono stati anche dei casi di file davanti alla posta? Sul piano tecnico ci sono gli estremi, in questa lettera così come messa, così come formulata nella busta, così come proposta, ci sono gli estremi dell'artificio e reagire di cui è l'articolo 640 del codice penale, la truffa. Se fossi difensore di Berlusconi mi appellerei al falso grossolano perché proprio è di una volgarità, di una strumentalità, di un dabbenaggine che se proprio non è una truffa ne ha tutte le caratteristiche è comunque sintomo di una persona che vuole semplicemente fregarti il voto con un artificio e un raggiro. Affidarsi a una persona che una volta ti dice che ti dà un milione di posti di lavoro, una volta 4 milioni, una volta che ti dai soldi indietro, alla fine si rischia di passare o per festi o per complici. Quindi io mi auguro che i cittadini alle urne guardano a un ricambio generazionale, rivoluzionario della classe politica in Parlamento, magari mandandoci sì, lo rivendico, qualche magistrato in più e qualche delinquente in meno.